Ebbene, approfitto sempre o mai sempre più nebbia, guardate che roba, di questo splendido scenario per farvi gli auguri del Vice Presidente, ormai come il nostro caro Erba Lusca di missionario, eccomi qua, non ci sarò purtroppo per vari ed eventuali compleanno gluca e come al solito, però vi lascio il mio video messaggio. E' un momento difficile, sono momenti difficili, noi tutti abbiamo avuto sicuramente un anno complesso, chi più chi meno, ma anche tante belle gioie, mi sembra quello di Ciao Bale che fa le maligne di Don Gabutti. Comunque, a parte questo, eccoci, un gran saluto a tutta la gluca e a tutti gli amici, scusate la mia assenza, ripeto, sono un po' fuori di testa, non cambio più, sono fatto così, mi accettate così come sono, se no fa cannabie e ruppare le bale. Comunque, con tutti un abbraccio, un saluto carissimo, ci vediamo, e questo ve lo prometto, ve lo posso promettere, per un caffè o un tè o qualsiasi cosa la sera su al Monte dei Capuccini come una volta, in cui vi degnerò anzi della mia presenza stimata, onorabile e anche puzzosa direi. Con questo, un gran saluto sempre da lui, da VP, da questo scenario ancora in mezzo alle nebbie, fantastico che può essere solo emplicemente a Montano, i miei sinceri auguri a tutti di un, speriamo veramente, di un buon anno sociale 15 e 16 e soprattutto un buon 2016 che porti veramente solo belle notizie a tutti. Ciao, glucai, auguri!